buongiorno dieci anni di guerra ma dieci anni di guerra e alla fine si vince forse qualcuno ricorderà un episodio di cui magari vi ho parlato qualche volta ma che riguarda un caso increscioso di prototipo di Beilin perché ero particolarmente informato sulle questioni del Beilin quando e quando vidi la legislazione sconsiderata presa e attuata da Renzi nel caso della banca Etruria nel caso delle altre banche capivo perfettamente dove si andava a parare mi sidrizzarmi i capelli in testa e feci tutto quel casino che qualcuno che mi aveva seguito all'epoca ricorda so se vi ricordate la famosa trasmissione omnibus con mentre mi chiedevano dei bambini cingalesi non mi ricordo di che di tamilla lì o situazioni che dicevo sì tutta la solidarietà del mondo ma qui ci sono migliaia di risparmiatori a cui stanno venendo tolti i soldi e il famoso Mauri del PD disse che erano le polemicucce non vi ricordate ecco perché ero preparato in quel caso beh per un motivo semplice perché avevo seguito professionalmente e direttamente un caso alcuni casi diciamo così assolutamente specifici legati alle obbligazioni subordinate il primo caso che avevo seguito era sulle obbligazioni irlandesi quindi quelli di alcune banche che furono diciamo così utilizzate come prima idea di questa idea malsana di andare a colpire gli obbligazionisti per i problemi delle banche e soprattutto per la mancata vigilanza delle banche da parte dei governi beh funzionano in Irlanda ai tempi delle prime crisi bancarie e anche in quel caso alla fine non andò troppo bene per il governo irlandese e chi fece delle cause dirette poi alla fine fu risarcito compresa e se mi sta ascoltando magari gli fischiano un po' le orecchie compresa una gentile signora a cui feci feci consulenza e che pensò bene di incassare il risarcimento e non pagare il dovuto ma vabbè pazienza tanto non importa erano periodi in cui era meglio era meglio se una volta ritirato dal lavoro ci stavo definitivamente guarda invece che ogni tanto farmi cogliere dal dall'idea malsana di fare consulenza pazienza acqua passata il il fatto è però che ci fu un episodio assolutamente increscioso ed è appunto quello legato alla banca olandese sns questa era la quarta banca olandese a un certo punto le banca olandese non andarono benissimo ecco mettiamola così e un po tutte furono nazionalizzate tranne la rabo banca che era la banca diciamo tipicamente del dell'olanda agricola ma altrimenti sia ing sia vienne così questo tipo poi ebbero tutte delle grosse vicissitudini oltretutto dalla parte a bn amro arrivò la questione anton veneta che poi finì al monte paschi con con tutto quello che 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 consegue diciamo che sns era la quarta banca sembrava tutto sommato fuori da da queste da queste confusioni all'epoca studiavamo pubblicamente in un forum di del del sito investire oggi studiavamo pubblicamente in un gruppo di persone molto preparate perché veramente il contenuto e i contenuti che venivano sviscerati su quel formo pubblico e uno può ancora andare a rileggere le questioni di dell'epoca erano di altissimo livello c'erano avvocati io altre persone che erano esperte diciamo così di 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 obbligazioni e studiavamo le subordinate prima che diventassero famigerate no cercando di capire cosa potessero essere i rischi benefici perché alla fine tutto sommato tutto gira gira da lì guardando i prospetti e quindi cercando di vedere quali fossero i titoli più pericolosi o meno perché sembravano delle e oggettivamente erano delle interessanti opportunità di investimento c'erano delle obbligazioni subordinate messe da questa banca vale a dire l'SNS che avevano delle caratteristiche molto positive era sicuro c'è vale a dire su quello che veniva detto sul 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 prospetto comportava che certo meno di non andare direttamente in fallimento immediato di tutto e anche in quel caso ci sarebbero stati in ogni caso dei dei delle possibilità di recupero somme davano un interesse molto importante con delle clausole che tutelavano direi in modo abbastanza preciso i sottoscrittori bene quel fenomeno quel fenomeno di geron gisble all'epoca ministro delle delle finanze delle finanze olandese credo non ho prove ma secondo me in europa nel nel gruppo degli stregoni dell'epoca che evidentemente pensavano di dover conquistare il mondo gli chiesero la prova d'amore cioè del tipo caro gisble fai vedere che veramente sei degno della nostra della nostra attenzione prendi e azzera un po di risparmiatori della della tua banca per far vedere se hai veramente le palle allora se tu riuscirai a a passare questa questa impresa ti nomineremo presidente dell'euro gruppo questo fenomeno ovviamente laurea in agraria sempre perché c'è un problema no c'è ogni volta quando bisogna andare a cercare qualcuno che faccia la boiata vedi per esempio gualtieri no si va sempre a prendere qualcuno che non so un tubo di economia e poi dopo gli si dice vedrai vieni vieni fai questa bella cosa esegui ammazza la gente poi vedrai che vedrai che che avrà il premio allora il nostro simpatico laureato in agraria prese bene a un certo punto si svegliò una mattina e espropriò espropriò nazionalizzò la banca ed espropriò gli obbligazionisti vedete su questa cretinata poi dopo venne montata la legge sul belin perché non è che nascono da soli nascono da errori successivi questo praticamente fece il belin prima che il belin venne venne ufficializzato e utilizzò lo strumento dell'esproprio cosa significa significa che i risparmiatori che avevano in portafoglio queste obbligazioni gli vennero sequestrate cioè dal dal sembra incredibile all'epoca veramente io lo guardavo diciamo ma non può averlo fatto davvero una cosa del genere soprattutto non è possibile che che possa andare cioè se tu Mario Rossi avevi queste obbligazioni sul tuo contotitoli della banca di credito cooperativo emiliano così questo tipo lì era arrivata la comunicazione del governo olandese che imponeva il sequestro dei titoli quindi tu eri spropriato a una valutazione che dopo averci pensato bene no il ministro decise che era pari a zero ma che viene neanche Chavez no cioè quando nazionalizzava i pozzi petroliferi no poteva fare una roba del genere quindi tu avevi centomila euro in obbligazioni di questa banca un milione qualsiasi cifra e arrivava il governo olandese te le prendeva via è stata una anche delle cose che mi ha aiutato a capire cosa potevano essere i rischi di quest'unione europea dove a un certo punto arrivava qualcuno in un'altra nazione e cliccava e ti prendeva via delle cose sul tuo conto corrente qui in italia è stata una cosa incredibile c'è da dire che avevano erano andati a rompere i coglioni una persona sbagliata cioè non tanto me ma quanto tutti diciamo i membri di questo di questo forum praticamente passato lo shock immediato no di questa di questo es proprio di titoli che boh fino al giorno prima pagavano fino al giorno prima banca era sanissima pagava i suoi suoi interessi no è così questo tipo bene praticamente partimmo come morsi da aspide e c'erano dentro appunto fra fra di noi anche degli avvocati di altissimo internazionale di altissimo livello in buona sostanza c'erano con comodo dieci giorni di tempo con comodo per fare per fare appello alla non mi ricordo nella corte d'appello olandese sì in buona sostanza bisognava c'erano con comodo di ci sono di tempo per fare appello in olandese no alla corte d'appello olandese partimo a sparo raccogliemmo tutti i risparmiatori che facevano riferimento poi a questo forum raccogliendone più di 100 se non mi ricordo male quindi c'erano un gruppo un gruppo assolutamente importante solo italiani e poi immaginate un po voi per il resto del mondo comunque c'erano più di 100 risparmiatori solo italiani che aderirono a questa a questa manovra e dopo otto giorni dal dall'esproprio eravamo belli lì precisi alla corte d'appello di rotterdam con 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 l'opposizione da quel momento iniziò una avventura giudiziaria che rivaluterebbe ogni livello del della giustizia italiana delle le cose incredibili cioè praticamente si buttava in tribuna e ogni volta un appello diverso da qualche parte no e così via e intanto man mano si vinceva perché oggettivamente avevamo ragione ma avevamo ragione su tutti i livelli l'unica cosa che all'inizio avrebbe potuto mettere chiuso chiudere la questione guarda caso l'unico l'unico tribunale che non aveva capito niente era se non mi ricordo male lì la corte europea dei diritti dell'uomo adesso non mi ricordo comunque uno di all european corto giustis uno di quei due lì comunque fatto sta che dice ma no ma la procedura tutto sommato è stata seguita bene ma andate avanti con le strade normali per eventuali risarcimento bravi risultato ragione 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 ogni volta un appello su qualcosa diverso alla fine sembrava veramente una presa in giro comunque voi immaginate della gente con magari non so 500 mila euro no di 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 svaniti dalla sera alla mattina cosa che da da in grado di far perdere la ragione perché uno diceva beh avercele 500 mila euro sì non importa cioè immaginate un qualcosa che sia significativo per le vostre finanze che siete convinto di avere lì tranquillo in banca perché si tratta di obbligazioni erano di obbligazioni di una banca e ci hanno provato ci hanno una disavventura su cui sono passati gli obbligazioni istituti che truria gli obbligazioni istituti e gli azionisti delle banche venete non non è piacevole vi assicuro che non è piacevole avere delle obbligazioni bancarie quindi di qualcosa che erano ritenute assolutamente sicure certe svanire risultato continui rimandi alla fine arriva finalmente la sentenza del diciamo dell'enterprise chamber adesso non voglio entrare non so come tradurre no queste figure comunque è l'enterprise chamber olandese che stabilisce non solo che i risparmiatori hanno ragione non solo che ovviamente se tu scegli il sistema dell'esproprio senza che ci fosse scritto nulla sul prospetto perché adesso che hanno inventato il bail in c'è scritto a rischi prendi e così questo tipo anche le banche i creditori delle obbligazioni svizzere quelle del credit suisse c'è scritto guarda che puoi perdere capitale se entra in gioco una cosa lì all'epoca non c'era scritto assolutamente nulla e quindi è stato un esproprio pure semplice senza compensazione no e allora l'enterprise chamber ha valutato visto che era stata una cosa fatta totalmente eh in modo arbitrario che doveva esserci una compensazione piena da parte eh degli obbligazionisti più oltretutto gli interessi cumulati non pochi la questione è stata ancora una volta portata la della corte di cassazione in modo tale che si si aspettasse si facesse è arrivata oggi dopo dieci anni dieci anni dal giorno dell'esproprio è arrivata la sentenza a corte di cassazione e tutti i risparmiatori riavranno i propri soldi più gli interessi quindi carissimo Jerome Gisselblom tocca tu ormai sei lontano penso che adesso posso non so che cacchio faccia il sindaco di qualche città sfortunata suppongo o così questo tipo per intendersi questo era quel soggetto perché per chi ha visto il film è quello basato su il libro di Varoufakis Aduls in the room era quello simpaticissimo con gli occhialini che arrivava lì e che gli diceva che in buona sostanza diceva solo delle gran cacchiate e che quindi qualsiasi cosa avessero deciso i greci non contava niente perché contava solo quello che decideva l'unione europea no bene questo simpatico signore questo esecutore questo ammazzatore di risparmi seriale no e similari che io avevo anche ricordato in una famosa interrogazione a tria quando sembrava che dovesse essere in lizza per un incarico importante bene questo simpatico soggetto anche oggi salutato e ha dimostrato che ha semplicemente rovinato la vita delle persone per dieci anni così per nulla per nulla con i risparmi della gente non si scherza i risparmi sono importanti la costituzione tutela il risparmio in termini assoluti non c'è un ma e un se c'è persino la famigerata tutela della 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 libertà e così via sempre la libertà personale inviolabile ma se c'è ovviamente il provvedimento no il risparmio è tutelato punto punto non si scherza se c'è una cosa su cui non si deve scherzare è il risparmio delle famiglie quindi chi ogni tanto si congegna cretinate tipo il belin tipo il sequestro delle dei titoli tipo l'appropriazione di 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 delle obbligazioni e seminari prende esempio da questo caso e sappia che non si fa io dal mio punto di vista sinceramente però per voi ne trago anche un'altra idea dieci anni sia un combattimento lungo una roba che è andata avanti costantemente con momenti di sconforto per tanti per tutti che è costata anche a me è tutta una serie di cose spiacevoli personali che che preferisco e preferirò lasciarmi 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 alle spalle ma alla fine si prende si combatte e ci vuole il tempo che ci vuole ma alla fine ci si arriva la mia testa è più dura rispetto ai muri che ci possono mettere davanti e questo vale anche per la politica si inizia si prendono tutte le strade anche quelle più tortuose che che si devono fare ma si arriva fino in fondo e ci si mette il tempo che ci si deve mettere ma l'importante non perdere mai di vista l'obiettivo congratulazioni e complimenti ai miei amici e a tutti quelli che hanno combattuto insieme con insieme con me questa battaglia contro il l'inusitato esproprio del governo olandese è una lezione per tutti si combatte ecco la fine si vince